Noi come studio locale monovolume siamo stati contrattati da Snohetta per partecipare a questo concorso del Virgolo. L'idea principale per il progetto Virgolo era quella di portare un po' di natura in città e un po' di città nella natura. Arrivando dalla strada via Alto Adige si sale la piattaforma una volta intorno all'edificio con il volto verso la città, poi si sale nella cabina e in circa 70 secondi si arriva alla stazione Monte. Lì abbiamo tre possibilità, una è quella di usare la piattaforma o entrare nel ristorante e il bar o usare la piazza che sta dietro l'edificio. In questa fase di progetto è pensato questo come stazione a monte, poi è possibile anche ampliarlo e portare la stazione finale sul colle. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti